Cari amiche e cari amici benvenuti in questo nuovo video prima di entrare nel vivo io come sempre vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti al mio canale se deciderete di attivare la campanellina verrete informati ogni volta che pubblicherò qualche nuovo contenuto e inoltre mettendo un like mi aiuterete a crescere ciò detto veniamo pure al tema di oggi ovvero lo shopping allora lo shopping che vi voglio far vedere non è tantissimo ma è perché voglio avvantaggiarmi sul discorso Black Friday perché ho comunque alcune idee su delle cose che vorrei comprare e anche perché insomma un video l'avevo fatto anche poco tempo fa anche se ultimamente faccio molti ordini online ma non potendo provare le cose poi non mi soddisfano e quindi poi le rendo quindi un gran casino quindi volevo adesso concentrarmi su pochi pezzi poche cose però cose che voglio che penso che potrebbero andarmi bene o che comunque più facile che mi vadano bene cominciamo in prima battuta da un prodotto no logo che è uno di quei prodotti che io compro online su Instagram e la cosa in questione è questo capo che mi rendo conto non si capisca comunque è una maglia una sorta se volete di cardigan di quelle che si incrociano alla vita adesso me lo metto così tanto per darvi un'idea con un rossetto chiaro più chiaro di quello che oggi mi piace molto l'effetto ecco vedete si incrocia so se riesco lo incrocio e poi vi faccio vedere ora in questo momento che sono morbida non è sicuramente la cosa che mi sta meglio però a me piaceva ok vedete qui si incrocia appunto potete anche tenerlo più aperto potete anche tenerlo più chiuso questo ha il vantaggio di non essere particolarmente scollata quindi anche se avete molto seno può andare con qualcosa vita alto una gonna bla 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 è comunque molto di gusto l'ho pagata 17 euro poi c'è sempre ovviamente eventualmente la spedizione l'avevo presa anche di un altro colore ma purtroppo non è un mio colore amico come direbbe la signora migliaccio versus l'armocromia e quindi alla fine ho optato per questo rosa vedete a me piace molto voi cosa ne dite mi sa bene questo colore mi piace ovviamente io sono anche la persona che porta tranquillamente questo tipo di rossetto mi viene in mente prima Kito Saint Germain di MAC questo invece è Please Me sempre di MAC veniamo a pochi scusate a pochi acquisti fatti da Zara ma intelligenti ho comprato questo basco che è very very parisienne è come si dice molto adesso non mi viene comunque è molto pariguino ha questo bellissimo color fucsia che è un colore freddo era molto indecisa tra questo e quello di Stradivarius però questo è fatto meglio mi sta meglio e oltretutto è di lana al contro che lavarlo è più difficile perché è quello di Stradivarius è acrilico però ecco sicuramente scala molto di più e io sono molto felice di averlo preso poi sempre per essere nei cappelli ho questo in questa borsa molto chic ovviamente sempre di Zara che è questo cappello stile baseball che ha la visiera ed è mollato a me piace molto è caldo questo l'ho già messo è regolabile col velcro quindi non fate assolutamente fatica anche se vi fate la coda e poi volete farla uscire da dietro è molto molto comodo poi insomma l'idea del sacchettino per riporlo anche in valigia devo dire che è interessante molto molto carino sempre di Zara ovviamente mi sono dimenticata di prenderle però ho preso anche delle mollettine non ricordo se ve le ho già fatte vedere in un haul potrebbe essere anche il cappello potrebbe essere però non l'avevo fatto vedere indossato comunque le mollettine in questione sono quelle che vi lascio qui e le mollette sono carine mi piace meno il cuore però per il costo che hanno che intorno ai 13 euro sono veramente molto molto ben fatte un acquisto che non fa molto da me è questo mi sono recata a Bologna e nel tornare all'outlet che c'è in provincia di Parma che non mi ricordo mai come si chiama ho comprato queste banalissime scarpe non so come si chiami il modello probabilmente è scritto vediamo allora il numero è il numero è 6 e mezzo e si chiamano Ebernon Low costavano 60 euro io le ho pagate 42 quindi prezzo che di solito pago le puma che metto e queste hanno la suola che non è di quelle in foam che io detesto che sono veramente scomode per me sembravano molto confortevoli sul piede quindi non vedo l'ora di usarle perché mi servono questa è sua sorella per farvele vedere poi voglio chiudere il video con dei prodotti di Sephora in cui ho anche messo alcune cose che ho comprato da MAC tra cui questo mini rossetto che è Plismi non è vero Plismi è quello qui addosso si chiama Mare ed è uno dei rossetti più famosi in assoluto di MAC è un nude rosato voglio anche prendermi Velvet Teddy di questa serie perché è uno di quei colori che ho sempre voluto scusate guardo di non vorrei vedere subito ma non ho mai avuto il coraggio di mettere poi ho comprato la versione mini del Fix & Plus che adesso ho nella valigia perché devo andare in Trentino vedere questioni familiari e poi ho comprato altre due cose allora il primo è questo Cajal che è tipo quello che avevo comprato da Collistar a Natale che però ho buttato perché è veramente terribile mi sbavava mai più vedete bene la punta ovviamente in nero non escludo che se mi piace il nero poi magari lo comprerò anche in altri colori come vedete sono ancora così nuovi i prodotti che sono nelle confezioni e poi ho comprato un'altra matita che era della linea dedicata alle fate che non c'è scritto comunque il colore si chiama Pine l'ho detto prima Pine for me molto molto bello il pack è molto molto bella anche la matita in sé il colore è ovviamente questo verde fino bellissimo e anche questa non mi do l'ora di utilizzarla sono molto felice di poterla usare a domani poi che altro vi faccio vedere nel sacchetto di sephora che vi faccio vedere ancora comprato con i saldi dei single day ho comprato questo set di lanage io questo prodotto che è fondamentalmente la lip sleeping mask l'avevo già però quella grande mi è andata male quindi ho comprato questa che ha anche questa sorta di lip balm quindi questo burro cacao lucido vediamo può anche essere un'ottima idea regalo non mi scriverò i prezzi proprio perché potrei anche regalarli poi ho comprato un altro kit ho comprato questa confezione che sarà anche una delle mie idee regalo una è il misto profumato invece l'altra il trattamento dicono essere eccelsi e quindi spero che chi lo riceverà sarà felice niente prezzi proprio per questo motivo poi ho voluto regalarmi due cose che credo non userò almeno una delle due questa che è la glam palette la nano credo che si chiami che la chiamino insomma che riprende la glam palette di Natasha Denona però solo tre ombretti perfetta per il gaggio anche perché c'è un colore neutro che io di solito applico su tutta la palpebra poi c'è un colore più scuro con cui si può creare l'ombreggiatura nella piega e poi c'è il colore penso sia glitterato lo scopriremo comunque quando lo apro lo svolge per poter invece andare proprio a dare luce su tutta la palpebra e poi ovviamente non potevo farmi sfuggire quest'altra che è la mini metropolis che ha anche il pennello allora forse questa potrebbe essere quella che aprirò però tanto per renderci conto questo è il pennellino sarà per succedere una cosa bruttissima sarà per cadere a paletta allora questo è il pennellino che come vedete è veramente piccolo è alto come la paletta infatti e questa invece è la palettina allora non mi fa impazzire l'oro però mi piace l'oro in combinazione con questa sorta di verde e tra l'altro ho anche la matita verde di MAC quindi penso che possa essere molto bello come set la richiudo e vediamo se la tengo effettivamente come regalino oppure se la userò prima come al solito mi ero dimenticata un pezzo questo l'ho trovato al Max Factory ed è un gilet in ecopelliccia molto morbida i gancetti per chiuderla e ha un bellissimo color rosa cipria morbidissimo ho comprato inoltre due pezzi di intimo non vi voglio far vedere in sé il prodotto però perché li ho comprati perché hanno le coppe differenziate e io ho una coppa importante in questo momento quindi ho bisogno di queste cose il primo è gli intimissimi ed è questo hanno bombardato di pubblicità è una sorta di balconcini con questa piccola imbottitura che fa sì che non si noti niente tipo il capezzolino e poi è questo pizzo che è molto carino e contiene molto bene e poi ovviamente ho preso la brasiliana in abbinamento e ho scelto il color nude anche se per me devo dire molto molto scuro e poi invece ho comprato da Yamamai questo set molto bello con questa fascia e sempre con la sua brasiliana la fascia ha una forma che regge il seno in modo diverso dalle solite fasce ed è un po' quello che mi piace avevo anche dei costumi con questa forma e li adoravo vi scrivo in questo caso i prezzi sotto li ho comprati i full price avrei potuto aspettare la black friday ma pensavo di metterli in realtà perché avevo in programma di fare delle suore invece no non è stato così e quindi li ho presi il mio shopping molto stringato oggi si chiude qua vi chiedo scusa perché probabilmente questo video ha una luminosità diversa da tutti gli altri ma non so come facessi prima impostarli perché è buio comunque vi ringrazio per avermi seguita vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento tutto quello che volete se volete segnalarmi qualcosa anzi ho una domanda se qualcuno che mi segue o che si imbatte in questo video conoscesse il marchio Ocean Apart potreste dirmi come vi trovate vi ringrazio moltissimo e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti